Musica Previsioni per domenica 23 dicembre, aggiornate le 14.30 del 22.00. La rimonta di un'area di alta pressione favorisce tempo stabile per domani sulla nostra regione e sulla provincia di Cuneo, con un aumento delle temperature, in particolare in montagna, ma con cieli più grigi in pianura per nebbie e nubi basse. Domenica il cielo sarà sereno sulle Alpi e parzialmente nuvoloso altrove, precipitazioni assenti, temperature sulle pianure, la minima 0 e la massima 10 gradi, in montagna la minima meno 4 e la massima 11 gradi. Musica Musica Musica